Probabilmente diventavano tutte gialle, no? Ma vede, probabilmente, ma probabilmente ce lo danno i numeri alla diffusione del contagio. Io finché sento i miei colleghi medici e infermieri che soffrono dentro gli ospedali, che sono sovraccarichi in alcune aree, mi perdoni, non posso pensare al Natale. Penso ai morti e ai medici. Senta, ecco, proprio per questo, viceministro Asseleri, le posso chiedere una cosa? Ora arriviamo, siamo visti. Ma secondo lei può esistere un governo che decide di non parlare del Natale? Le sembra una cosa proprio stellare e mi perdoni il gioco di parole. Nel senso, di fronte a quello che sta succedendo, prendersi la responsabilità anche politica di dire signori, scusateci, non parliamo del Natale. Prima arriviamo a vedere un paese in cui i dati dei morti sono sensati, i dati e i progetti sul vaccino sono sensati, poi magari parliamo degli allentamenti. Ma vedi, io non dico di non parlare del Natale, anzi, tutt'altro. Dico, aspettiamo, i monitoraggi. No, no, invece sono io che le dico. No, no, io l'ho capito quello che dice. Io credo che dobbiamo continuare a osservare i numeri dinanzi a noi. Le cose stanno andando bene in alcune aree, è ancora troppo presto però di fare progetti a lunga distanza. Quindi, cosa le devo dire? Cioè, io sono un cristiano cattolico, festeggio ogni anno il Natale, però l'idea di stare, diciamo, in casa con tante persone in questo momento mi sembra, non dico fuori luogo, ma non andrebbe fatto, perché ci troveremo nella stessa condizione che abbiamo vissuto alla ripresa delle attività nel mese di settembre e ottobre, poi ci troveremo così.